... Rabiot per Vlaovic, limite dell'area, ce l'ha sul mancino il suo piede, il tiro, subito la parata! Di Montipò che toglie a Vlaovic dopo sei minuti la gioia del primo gol con la maglia della Juve. Testa di Casale, arpiona il pallone di bala che lancia subito Vlaovic, attenzione esce Montipò, Vlaovic, il pallonetto di sinistra, gol, gol! Il primo gol con la maglia della Juve di Dujan, Vlaovic! Delizioso assist della gioia, Paolino Di Bala che lancia verso il portiere Vlaovic, tocco sotto morbido dentro la porta del Verona, Juventus 1, Verona 0, Dujan Vlaovic! Pichellini lo vede e va al servizio su De Sciglio che carica il destro improvviso dalla distanza, palla a lato! Di Bala, attenzione sulla corsa Morata, Morata va nella posizione di alla sinistra, c'è già Vlaovic a centronare il pallone per il serbo al destro! La palla fuori di niente! Si disimpegna bene Morata, si sposta, passa alla metà campo centralmente, attenzione alla corsa di Zaccaria, palla per Zaccaria, Zaccaria nella rigore, esce il portiere, Zaccaria a destra, gol, 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 gol! La Juve in gol! E Zacca 2-0! Partita ghiacciata adesso! L'inserimento offensivo sull'assist di Morata di Zaccaria che guarda il portiere e gli mette alle spalle un pallone delizioso per il raddoppio della Juve. Lo scambio che riesce, Paolino, Paolino, Paolino la mette dentro l'area di rigore, attenzione la possiamo crossare, palla per Di Bala, sinistro! La parata! A piedi uniti, chiude le gambe Montipò, Rabiot, limite dell'area, Rabiot, il mancino di Rabiot! La parata in tuffo di Montipò! Vlaovic, Vlaovic, sinistro, se la sposta sul destro, la conclusione improvvisa, raso terra, centrale debole, nessun problema questa volta per Montipò. Vlaovic in area, McKennie sul sinistro, allunga il tuffo Montipò, palla ancora in campo, tacco di Vlaovic dentro l'area, deviazione di Gunter, corner per noi. Ken, limite dell'area, Ken se la sposta sul destro, Ken il destro, fuori! A portiere battuto immobile Montipò a guardare la traiettoria della palla e a soffiarla fuori. Rabiot è già pronto a fischiare, non c'è più tempo, arriva uno, arriva due e arriva tre. Il triplice fischio del signor Massimi manda definitivamente le squadre negli spogliatoi. La Juventus batte il Verona 2-0. Il triplice fischio del signor Massimi manda definitivamente le squadre negli spogliatoi. Il triplice fischio del signor Massimi manda definitivamente le squadre negli spogliatoi. Il triplice fischio del signor Massimi manda definitivamente le squadre negli spogliatoi.